Buon pomeriggio a tutti, ben trovati ai nuovi, ben ritrovati a chi è riuscito a seguirci anche magari in tutto questo percorso che abbiamo iniziato all'inizio dell'anno scolastico e che terminiamo quasi con l'anno scolastico perché oggi è l'ultimo incontro. Per chi ancora non mi conosce mi ripresento, sono Elisabetta Scala, la vicepresidente del MOIGE e il MOIGE insieme al Museo del Risparmio ha organizzato questi importanti e interessanti webinar per genitori, educatori e insegnanti su temi che insomma speriamo siano stati di vostro interesse, temi sensibili nell'educazione dei nostri figli e molto attuali. Oggi il tema è attualissimo, bullismo e cyberbullismo, prevenire i fenomeni e come riconoscerne i segnali. Abbiamo degli interventi molto interessanti che mano a mano vi andrò presentando, ma innanzitutto ci tengo a salutare Giovanna Paladino che è direttore e curatore del Museo del Risparmio e che ha con noi condotto questa bella avventura. Giovanna è un piacere averti di nuovo qui con noi, l'altra volta a distanza, oggi in presenza. Grazie mille Elisabetta e questa esperienza che abbiamo fatto insieme al MOIGE è stata un'esperienza importante, l'abbiamo voluta fortemente perché non è stato poi sempre semplice organizzare eccetera. L'abbiamo voluta appunto come diceva Elisabetta su temi che riguardano l'educazione dei ragazzi, l'educazione che a noi insomma vuole dire interessa anche dal punto di vista dell'educazione e la gestione del denaro, quindi abbiamo parlato di tante cose che anche il Museo fa per aiutare i genitori a trovare la giusta via per parlare di denaro e per educare la buona gestione del denaro e i propri figli, cosa importantissima. Oggi trattiamo di un tema dove il Museo del Risparmio è meno attivo essendo un tema un po' fuori della nostra mission, però noi abbiamo un rapporto abbastanza intenso con il MOIGE anche su un altro fronte che è quello del fondo Beneficenza, è un fondo che riporta la presidenza, io sono il capo della segretaria tecnica di presidenza e quindi gestisco, aiuto a gestire evidentemente questo fondo e lì abbiamo un paio, abbiamo avuto per diversi anni, abbiamo anche adesso dei progetti che cerchiamo di sostenere perché riteniamo estremamente validi che sono appunto portati avanti dalla MOIGE. Siamo comunque anche come Museo del Risparmio molto interessati al benessere dei nostri ragazzi che deve essere un benessere non solo economico ovviamente fa parte dell'insieme ma deve essere un benessere psicologico, quindi ci interessa che ci siano iniziative volte a contrastare un fenomeno molto insidioso perché colpisce i più fragili, colpisce le persone che spesso non hanno anche un supporto familiare forte quindi non sanno a chi rivolgersi e per questo l'attività del MOIGE, il supporto che viene offerto dal MOIGE è da noi ritenuto estremamente importante. Poiché vogliamo essere svizzeri e finire tutto il tempo e lasciare tanto spazio anche alle domande, io ripasso la parola a Elisabetta perché ci sono due speaker di grande valore e di grande interesse che a cui non vogliamo togliere neanche un minuto di tempo. Giustissimo Giovanna, quindi sarò brevissima anch'io, hai parlato delle domande e quindi ricordo che chi desidera fare delle domande le può fare in chat e noi al termine degli interventi risponderemo. Non è possibile dare la parola a tutti ma voi scrivete tranquillamente in chat e cercheremo di dare una risposta a tutti quanti e ricordo anche se ci sono insegnanti presenti che è possibile richiedere o al MOIGE o al Museo del Risparmio anche un attestato di partecipazione a questo incontro. Ecco, è presente adesso la nostra psicologa Marta Barraco che viene anche da una bella esperienza con noi proprio sul tema del bullismo e cyberbullismo perché ha girato e continua ancora a girare, mi sa che ancora non hai finito Marta vero, di girare l'Italia in presenza con la nostra postazione mobile o anche in webinar online, fa incontri nelle scuole appunto e forma, ha l'occasione di formare tanti ragazzi su questo tema e per questo insomma ha un'esperienza sia teorica che pratica e speriamo insomma e sicuramente cercheremo oggi di dare dei consigli anche ai genitori e quindi il tema eh ve lo dico proprio nello specifico di cui parlerà Marta è il quadro generale dei dati dell'indagine conoscitiva del MOIGE, un'indagine che abbiamo ehm realizzato poco tempo fa e caratteristiche attori del fenomeno, cause e conseguenza dei fenomeni di violenza online e offline, consigli utili e pratici. Prego Marta, te la parola. Salve a tutti, buonasera, sono molto contenta di partecipare tanto che ringrazio gli organizzatori di essere qui con voi e adesso mi piacerebbe anche condividere con voi delle slide del MOIGE e poi certamente mi piacerebbe anche per una partecipazione perché a me i monologhi non piacciono per niente e quindi dopo veramente vi invito, dopo che abbiamo con gli speaker abbiamo finito, vi invito proprio a fare delle domande rispetto ai vostri interessi o delle curiosità che vi hanno suscitato anche le slide. Comincio a condividere. Ok, spero che riusciate a vedere. Sono qui appunto per parlare di due fenomeni, due fenomeni che io direi fenomeni fratelli se non gemelli, parlare di bullismo e di cyberbullismo, fenomeni quasi identici ma non del tutto uguali. Il bullismo è un atto di aggressione e di molestia reiterata, reiterata vuol dire che comunque questa aggressione avviene per tante volte in un lungo tempo e può venire da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, quindi non si parla soltanto di un bullo ma si può parlare anche di più bulli, a danno anche loro di non una vittima soltanto ma anche più vittime. Perché succede il bullismo? Perché al bullo piace un sacco provocare le vittime e suscitare a loro dei sentimenti che possono essere sentimenti di ansia, di timore, isolamento e marginazione. Attraverso cosa? Attraverso dei veri e propri atti e comportamenti, pressione, violenze fisiche o psicologiche che possono anche confinare all'istigazione al suicidio o all'autolesionismo. Si parla anche di minacce, si parla di ricatti, si parla anche di delisioni e questi possono avere per oggetto anche la razza, la lingua, religione, orientamento sessuale e così via. Ma adesso vediamo un pochettino quali sono le caratteristiche principali del bullismo. Dobbiamo anche capire cos'è il bullismo e quali fenomeni possono appartenere al bullismo. Allora, l'intenzionalità dell'atto è una delle caratteristiche più importanti perché bisogna davvero dire che al bullo spesso prova veramente piacere nell'insultare, picchiare, prevaricare la vittima, anche quando è evidente che la vittima sta molto male e ha delle evidenti difficoltà. Come dicevo prima, l'atto di violenza viene ripetuto, quindi le prevaricazioni vengono reiterate nel tempo, tanto da fissare dei ruoli. Ci sono questi ruoli statici di bull e vittima e poi mi piacerebbe anche vedere con voi degli altri ruoli perché il fenomeno del bullismo non ha soltanto due protagonisti, ma li vediamo poi successivamente. L'importante è la simmetria di potere, infatti non parleremo di una simmetria di ugual potere, ma di un potere molto diverso. Il bullo infatti ha maggior potere rispetto alla vittima e questo può essere causato da vari fattori. Mettiamo fattori come l'età, in forza, grandezza, sesso. Come detto precedentemente, se vedete questa vignetta non è fatta apposta di questa propria simmetria, non soltanto di potere, ma anche fisica. Se vedete qui il bullo infatti è molto più grande, sia di spalle, è anche più alto, si vede che è grande anche di età rispetto alla vittima. Queste cose non sono ovviamente del tutto scontate, non sono sempre le stesse, però la maggior parte, l'età è maggiore, la forza è maggiore, la grandezza è anche la simmetria di potere rispetto al sesso. Vulnerabilità. Vulnerabilità in questo caso mi sto riferendo al grado di sensibilità della vittima, la vittima della violenza subita. E la notorietà dell'atto. Una delle caratteristiche principali del bullismo è il fatto che questo fenomeno deve essere visto, deve essere popolare. Infatti il bullo vuole avere proprio il suo palcoscenico. Il bullo è molto egocentrico, vuole alimentare tutto il suo ego. Ed è per questo che lui questo atto non lo farà solo con la vittima, ma vuole un vero e proprio fan, vuole un fan club, vuole che le persone lo sostengono, vuole essere visto. Adesso vediamo un pochettino le varie tipologie di bullismo, perché noi forse siamo molto abituati a sentire anche il bullismo di quello fisico, ma è molto importante parlare anche di bullismo verbale e di bullismo relazionale. Il bullismo fisico è un po' quello appunto che conosciamo tutti, le aggressioni, le prevaricazioni fisiche, quindi parliamo di colpire, calciare, spintonare, dare pugni, agredire, pizzicare, parlando sia di cose della vittima che sia anche del corpo della vittima. Verbale, verbale è tutto ciò che riguarda gli insulti, le prese in giro, aggressioni verbali, quindi in questo caso di ridere ripetutamente la vittima, posso farla con nomignoli umilianti. Spesso mi capita grazie appunto al progetto del Moj di mobilitiamoci, quindi giro le varie scuole, nelle varie tappe delle italiane, spesso mi capita che devo sottolineare molto ai nostri ragazzi la differenza fra scherzo e bullismo, perché a volte per i ragazzi stesso attribuire denominioni offensivi ai propri compagni è soltanto uno scherzo. Invece io devo proprio sottolineare queste caratteristiche e questa differenza per far sì a rendere anche loro consapevoli e coscienti di quello che può provare, in questo caso la vittima. E poi parliamo anche di bullismo relazionale, ovvero di divulgazione, quindi pettegolezze che si fanno all'interno di un gruppo. Cosa può succedere alla vittima quando si fa questo tipo di bullismo? La vittima ovviamente può andarsene o essere tranquillamente anche esclusa dal gruppo. Adesso vediamo un pochettino come rintracciare, se possibile rintracciare le cause del bullismo e mi piacerebbe rintracciarle insieme a voi focalizzandomi su tre sfere molto importanti, la sfera individuale, la sfera familiare e la sfera sociale. Parleremo di sfera individuale dando comunque a importanza al temperamento, il temperamento su tutte le caratteristiche innate di un individuo e la predisposizione verso i giochi maneschi, le diagnosi, sono queste anche molto importanti, una diagnosi accertata ovviamente fatta da un'europsicatra infantile, mi viene ad esempio, ho tendenza verso comunque un deficit di attenzione o per attività e anche le limitate competenze di problem solving, ovvero trovare delle soluzioni efficaci e adeguate, ritenere anche delle soluzioni a certi tipi di problemi e quando ci sono delle limitate competenze si può anche parlare, si può anche fare un campanellino d'allarme rispetto a quello che può essere una causa del bullismo. Il livello familiare, il livello familiare è molto importante, lo stile educativo dei genitori, permissivo, distratto, autoritario, di atteggiamenti diffusi in famiglia, anche questo perché i ragazzi imitano, i bambini imitano tutto ciò che vedono fare, soprattutto in famiglia, che è l'ambiente quello ancora più importante, quelli che li forma, l'ambiente in cui vivono di più. Scarsa attenzione verso ciò che accade quotidianamente al bambino e ragazzo e mi piacerebbe questo metterlo quasi in correlazione con l'ultimo punto che è la poca coerenza nelle risposte alle azioni del bambino e ragazzo. Mi viene qua da fare un esempio, ad esempio il genitore dà un giacattolo a un bambino e poi bruscamente interrompe questo gioco. Effettivamente qui c'è una poca coerenza nel quello che fa il genitore e poi come lo risponde. E poi parliamo del livello sociale. Parliamo di livello sociale perché ovviamente i bambini vengono a contatto non soltanto con la famiglia che è l'ambiente quello più vicino a loro ma anche con altri ambienti e quindi nel livello sociale mettiamo ciò che sono gli amici, l'ambiente scolastico, quindi compagni e l'ambiente sociale più prossimo, contesto pubblico, mi viene da immaginare anche ai giardini pubblici, o al quartiere di casa dove il bambino magari scende o mi viene a pensare anche la palestra, i centri estivi adesso che le scuole stanno per terminare. E adesso vediamo un po' i protagonisti perché sembra quasi scontato pensare che nel fenomeno del bullismo ci siano due protagonisti, vittimo e bullo. Invece assolutamente no. Vediamo quanti altri ruoli e protagonisti possiamo avere durante questo fenomeno. Iniziamo con il bullo. Il bullo è quello che effettua le prepotenze nei confronti degli altri. Il bullo spesso non è solo, ha l'aiutante. L'aiutante è il seguace del bullo. Spesso anche lui agisce in maniera molto prepotente. Ma il bullo tra l'aiutante può avere anche il sostenitore. Il sostenitore potrebbe ridere, potrebbe incitare le azioni del bullo, ma tutto ciò cerca comunque, tende anche soltanto a guardare, tende a rinforzare il comportamento del bullo. Poi abbiamo la vittima, colui, con lei che subisce le prepotenze e poi abbiamo anche il difensore, che è colui che prende le difese della vittima, quella che cerca comunque di consolarla, di far cessare le prepotenze nei suoi confronti. Spesso i difensori, nelle varie scuole che ho girato, i difensori erano quelli che vedevano l'accaduto e andavano subito dall'insegnante, andavano subito dal personale ATA a riferir l'accaduto. Quindi comunque è un ruolo veramente molto importante quando la vittima non riesce, non riesce ad agire, non riesce a parlare con gli altri del proprio disagio. E poi c'è l'esterno. L'esterno è sempre il ruolo che molti inizialmente nemmeno comprendono, perché essere protagonisti di un atto di bullismo spesso è essere, azionarsi comunque, far qualcosa. Invece no. I protagonisti può essere anche l'esterno, lo spettatore passivo, chi guarda ma rimane passivo, quindi non prende alcuna posizione ma il suo guardare ti permette di essere comunque lì, di essere presente, di essere un protagonista del fenomeno di bullismo. Conseguenze. Conseguenze sono molto importanti le conseguenze. Mi piacerebbe adesso parlarne con voi dei vari sintomi che può scatenare un atto di bullismo, più atti di bullismo, che si mettono nella sfera dell'ansia, quindi sintomi ansiosi, agitazione fisica, psicomotoria, i ticli nervosi, gli incubi notturni. Molto spesso nelle vittime di bullismo si nota che avviene una vera e propria alterazione del ritmo sonnoveglia. Spesso i bambini hanno difficoltà nell'addormentarsi e hanno anche difficoltà giustamente nello svegliarsi. Alterazione dell'appetito, paura diffusa ed evitamento dei contesti di gruppo, perché nella maggior parte delle volte nelle vittime, proprio nei contesti di gruppo degli amici che vengono questi fenomeni. Sintomi somatici. Sintomi somatici sono tutto quel che compone comunque quel che succede nel nostro corpo, quindi mal di pancia, i problemi gastrointestinali, i vari mal di testa, le dermatite, i psioriasi e tutto ciò che ne può congenere. E sintomi depressivi, ovvero l'apatia, il disinteresse, quindi abbiamo veramente bambini che non si vogliono alzare dal letto. Affaticamento, tristezza, esplosioni improvvise di rabbia e isolamento ingiustificato, perché tendono poi a star soli. Adesso, brevemente, mi piacerebbe parlare anche di cyberbullismo, che come dicevo prima, il gemello, perché sono veramente molto simili, però vi è un'enorme differenza. Quindi parliamo nuovamente di aggressione, nuovamente di pressione, molestia, ricatto, ingiure, degrinazione, acquisizione illecita, manipolazione, ma come realizzata? Realizzata per via telematica. E questa è la grande differenza tra bullismo e cyberbullismo. Tutto ciò sempre allo scopo, intenzionale, quindi comunque parliamo di scopi che sono ben fondati, ben pensati, non è una cosa che succede casualmente. Scopo intenzionale e predominante di isolare un minore o un gruppo di minori, in questo caso ragazzi, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso o la loro amessa è ridicola. Adesso vediamo un po' le caratteristiche principali del cyberbullismo, ma anche del cyberbullo. Perché noi, parliamo proprio di anonimato, perché noi del cyberbullo spesso, e quasi sempre, non sappiamo né il nome né il cognome. Mi assicuro che invece il cyberbullo conosce perfettamente questi ragazzi, sa possibilmente dove abita, può tranquillamente recapitare il loro video e loro foto. L'anonimato ovviamente lo aiuta, così lui può tranquillamente comportarsi, può mettere in atto comportamenti persecutori, rete, e tutto ciò elimina a lui la preoccupazione di essere scoperto, di essere riconosciuto, punito. Un'altra caratteristica è che quasi sempre vi è un'assenza di relazione e conoscenza tra il cyberbullo e la vittima, anche se in una classe, era un elementare, quindi una classe primaria, in realtà una ragazza era stata vittima di cyberbullismo da parte della sua migliore amica, una cosa che per lei impensabile, invece era venuta da una persona molto vicina. Facilità di accesso al materiale che circola in rete, diciamolo in maniera molto tranquilla, ormai sulla rete può circolare di tutto e di più. Ma la cosa pure è un po' drammatica, è che oltre ciò che circola di immagini, video, post, questi possono rimanere veramente per tanto tanto tempo, tanto che ci sono veramente delle vere proprie essenze, limiti, spazio-temporali. Il fenomeno si può diffondere ovunque e all'infinito nel tempo. Poi vi è anche l'indebolimento delle remoletiche, nel senso che tra il cyberbullo e la vittima non vi è una relazione diretta, non si vedono, sostanzialmente non capita che, se non con certi tipi di appuntamenti che purtroppo anche quelli poi vediamo insieme, ma non vi è un vero e proprio appiattamento dell'epatia perché comunque cyberbullo e vittima spesso non si conoscono perché hanno appunto lo sfondo, hanno soltanto un computer di mezzo. Però tutto ciò fa in modo che comunque il cyberbullo non vede quello che succede alla vittima e quindi non si rende conto della gravità di so che sta facendo. Adesso vediamo un po' varie tipologie perché non esiste soltanto una tipologia di cyberbullismo, sono tante. Una fra le più frequenti è il cyberbashing che è ovvero quando l'azione si genera in realtà si può cominciare tranquillamente nella vita reale, ovvero la vittima in questo caso viene ripresa attraverso dei mezzi tecnologici, sto parlando ovviamente più di cellulari rispetto ad altri mezzi, mentre viene aggredita. La registrazione ovviamente poi viene salvata e condivisa in rete. A questo seguono commenti, like, voti, diffusioni di video fra compagni, amici, amici di palestra, comunque tutto ciò è veramente molto frequente, molto frequente. La cosa che comunque bisogna sottolineare è che il fine del cyberbashing non è altro che avere dei like, avere commenti, come dicevo prima per il bullo, avere popolarità. Un'altra tipologia molto molto diffusa è l'arrassment, l'invio ripetuto di messaggi offensivi, sgradevoli, ingiuriosi, che vengono inviati in modo veramente ripetuto nel tempo. Un ragazzo, lì era un liceo, dove ho fatto per una giornata di formazione, era venuto nel centro mobile proprio per raccontare che lui la notte veniva veramente restato di messaggi, continui messaggi, non lo facevano dormire, tra cui uno di questi cyberbulli, perché era più di uno in questo caso, era anche un suo compagno di classe. Poi mi piacerebbe parlare con voi anche di furto d'identità, perché è una cosa che succede, e succede anche spesso, in cui l'aggressore cyberbullo ottiene delle informazioni private, quindi sto parlando di password, di nickname, che consentono di accedere in questo caso all'account di qualcun altro. Ciò succede molto in un social, Instagram, che immagino voi conosciate, ma immagino che questi ragazzi conoscono anche di più. E poi vorrei anche parlare un attimo tra queste varie tipologie di sexting, che è un fenomeno molto dilagante tra i giovani, che è praticamente l'invio di immagini e video a sfondo sessuale. Per fortuna, anche se poi avremo modo e piacere di sentire la dottoressa, l'avvocato, abbiamo delle leggi che tutelano e che aiutano comunque il contrasto di questo fenomeno del cyberbullismo. Qui mi andava di riportare la legge del 29 maggio 2017, e queste erano delle linee guida comunque soprattutto nel contesto scolastico, essendo che comunque stasera abbiamo anche il piacere di avere come uditore anche educatori e anche insegnanti. Questi sono linee orientamento per la prevenzione e il contrasto di cyberbullismo nelle scuole, con l'aiuto comunque alla collaborazione della polizia postale. Si parla di formazione di personale scolastico, con la partecipazione di un vero e proprio referente, è la promozione di un ruolo attivo agli studenti. Molto bello le volte in cui andavo nelle varie scuole e nelle classi avevamo i giovani ambasciatori. Giovani ambasciatori erano dei ragazzi che in maniera proprio volenteroso, in maniera anche molto orgogliosa, volevano avere questo ruolo molto attivo e aggiravano tra le loro classi, dei loro compagni a parlare direttamente e anche loro nel loro formare rispetto a tutto ciò che era bullismo e cyberbullismo. Devo dire la verità, la maggior parte di questi ambasciatori, di questi giovani ambasciatori erano stati anche loro vittima, erano stati, quindi parlo sia del passato, ma lo sono ancora tuttora. Quindi mi fa veramente molto piacere che vi è veramente un ruolo attivo degli studenti e mi fa piacere vederli in questi contesti. Sono stati molte. In molte scuole e molte classi c'erano dei giovani ambasciatori e grazie al Moice ovviamente abbiamo una grande collaborazione pure. Poi volevo anche un attimino parlare rispetto appunto al referente che ha il compito di coordinare in questo caso le iniziative, ma anche la prevenzione del contrasto di cyberbullismo avvalendosi appunto della collaborazione della forza di polizia e le istituzioni scolastiche in questo caso promuovono appunto l'educazione all'uso consapevole della rete internet, ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo di tecnologie informatiche e poi il dirigente scolastico deve comunque venire a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Un'altra cosa della legge che parla di oscuramento che è una cosa molto importante perché spesso dell'oscuramento non se ne parla e invece c'è anche un modo per difendere e tutelare i nostri ragazzi, ovvero il minore che ha compiuto almeno i 14 anni e i genitori che esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare a titolare del trattamento al gestore del sito, del social media, un'istanza per l'oscuramento, per la rimozione di un dato personale del minore che sia anche una foto, che sia anche un video diffuso nella rete internet. Se tutto ciò non avviene, non viene cancellato quindi entro le 48 ore si può rivolgere comunque come a livello di gerarchia in autorità ancora più in alto al gestore del sito che è il garante dell'app privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore, quindi questa cosa molto importante. E poi, vabbè, da ricordare, io invito veramente tutti voi genitori a ricordare questi ragazzi che su web ogni comportamento può essere tracciato, ricostituito e denunciato dalla polizia postale. E al compimento dei 14 anni i ragazzi diventano penalmente responsabili delle loro azioni su web, quindi parliamo poi di essere imputabili. Gli insegnanti, gli educatori, tutti coloro che lavorano a contatto con i ragazzi devono avere l'obbligo di denunciare, in questo caso, i fatti penalmente rilevati. Adesso vorrei parlare un attimino anche delle conseguenze di questi due fenomeni. Prima ne avevo parlato a breve termine, ma adesso mi piacerebbe anche fare una distinzione rispetto al breve termine e a lungo termine, perché ci sono delle differenze. Abbiamo detto che nella vittima di cyberbullismo e di bullismo avevamo comunque questi sintomi che potevano riguardare l'aria dell'ansia, anche la somatica, quindi mal di pancia, mal di stomaco, ma mi piacerebbe anche parlare di rendimento scolastico, perché purtroppo in quasi tutte le vittime di bullismo vi è un conseguente calo di rendimento scolastico. Nel lungo termine si può sforare comunque andare anche in dei sintomi depressivi, comportamenti autolesivi e autodistruttivi, abbandono della scuola, perché appunto questi atti di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo avvengono nelle scuole, chiusura e sul lamento nei confronti degli altri. Ma adesso non parliamo soltanto delle conseguenze nella vittima, ma è giusto comunque anche parlare delle conseguenze del bullo. Nel breve termine si parla di disturbi della condotta e incapacità di rispettare le regole. Anche qui un calo di arrendimento scolastico. A lungo termine questi disturbi della condotta possono scaturire in veri e propri comportamenti antisociali, che comprendono quindi crimini, in comportamenti devianti, atti di vandilismo, abuso di sostanze. Quindi adesso, essendo che i ritori sono i genitori, mi piacerebbe anche parlare un attimino di cosa poter fare, perché abbiamo parlato brevemente di questi due fenomeni, abbiamo parlato quali sono le cause, le possibili cause di come vengono messi in atto questi fenomeni e quali sono le conseguenze per i questi ragazzi. Adesso, essendo che ci siate voi qui con noi, mi piacerebbe anche parlare di cosa fare, cosa fare i genitori nei confronti di questi ragazzi, dei vostri ragazzi. Beh, sicuramente i campanellini di allarme, loro sono effettivamente, possono evidenziare situazioni veramente difficili, quindi riconoscerli e individuarli. Fungere come modelli di comportamento, avevo detto, i ragazzi guardano ciò, tutto ciò che succede a casa, osservano come vi comportate e quindi è normale che tutto ciò che vedono poi lo possono replicare al di fuori del contesto familiare. Forse in una situazione di ascolto, evitando giudizi, io immagino quanto sia difficile evitare del tutto i giudizi, ma in questo caso bisogna anche rispettare qualcosa che per noi è anche lontano rispetto a quello che fanno i nostri ragazzi. bisogna anche rispettare le pressioni, i loro tempi, cercando di non sottovalutare e banalizzare un loro possibile disagio. Insegnarli a conoscere e riconoscere le emozioni, le sensazioni che percepiscono, andare anche un attimino a parlare di come si sta, di cosa vuol dire essere tristi in quel momento, di cosa si vuole fare anche con la propria emozione. Essere in una posizione di ascolto è veramente molto importante per i nostri ragazzi. Supervisionare le loro attività e indagare sulle frequentazioni della vita reale. Qui ovviamente non voglio darvi consigli su genitori che vogliono non solo giudicare, ma anche un po' investigare, controllare, assolutamente no. Supervisionare le loro attività in rete tramite la cronologia, ma fateveli anche raccontare. Fate in modo che il tempo vi troviate del tempo con i vostri figli, non soltanto tramite degli hobby, ma anche parlando di quel che fanno, di quel che vedono. Mi viene da fare un esempio su YouTube. Quasi tutti i ragazzi ascoltano musico su YouTube, seguono dei YouTubers, sono diversissimi. Capire quali YouTubers seguono, perché gli piace quel tipo di YouTuber. Che messaggio dà a loro? È molto importante. Poi ovviamente effettuare un controllo non coercitivo, comunque mostrandosi sempre figure di riferimento sicure, non giudicanti. Incoraggiare a sviluppare al meglio le loro abilità, le loro caratteristiche fisiche. Favorire le relazioni con i coetanei, perché è molto importante il gruppo pari in quell'età. Sottolineando l'importanza di sentirsi parte di gruppo, evitare questi comportamenti competitivi, aggressivi e promuovere comportamenti empatici, sociali, prosociali, insegnarli a difendere, difendersi e denunciare. È molto importante. Qui ci sono anche degli utilizzi rispetto al corretto uso del web, perché bisogna dire la verità, il web è uno strumento utile, è uno strumento utilissimo e tutti i nostri ragazzi fanno uso, perché magari è ancora più piccolino, ma farà uso del web. Ma ovviamente bisogna conoscere anche i rischi del web, bisogna anche controllare, sono dei minori, bisogna controllare, bisogna accompagnare i piccoli durante la visione che sia il social network, che sia un videogioco, che sia anche un film, ma accompagniamo i nostri ragazzi. Assicurare sempre ai vostri figli una presenza costante e continuativa, rimanere vigili, interessarsi a tutto ciò che fanno nel web, discutere con loro anche, perché spesso nel web possono anche esserci dei messaggi che magari i vostri bambini possono anche confondersi rispetto al messaggio che vuole dare contenuto di un'immagine, video, perché ancora non hanno la piena consapevolezza, quindi aiutate i vostri figli, interessatevi di quello che fanno. Poi un altro consiglio secondo me utilissimo è quello di decidere i tempi insieme di utilizzo dei dispositivi mobili. Date un tempo ai vostri figli e loro giustamente devono anche sapere che non possono utilizzarli sempre i social network, non possono stare sempre dietro un cellulare. Una cosa molto importante è anche quella della fascia notturna, minimo devono essere spenti un'ora prima, prima di mettersi a letto, perché il riposto notturno è indispensabile e quando, prima di addormentarsi, si è ancora col cellulare, tutto ciò può veramente influenzare i ritmi sonnoveglia. Puoi insegnare ai figli, molto importante, a non dare informazioni personali. Quelli no, il nome, il cognome si possono trovare, ma l'indirizzo di casa, spesso anche soltanto per iscriversi in un sito, si accettano tutti i vari dati personali, si manda l'indirizzo di casa, residenza, password, veramente si danno un sacco di informazioni personali e lì bisogna stare accanto ai propri figli per capire quali sono dei siti che potrebbero essere anche tendenzialmente pericolosi. Educare vostri figli a condividere qualsiasi cosa li faccia sentire al loro disagio. Possono ricevere dei contenuti e dei messaggi indesiderati ed è giusto parlare loro di questa possibile eventualità. Anche in caso di comunicazioni di messaggi sospetti o che possono essere anche trasgressivi, loro devono fare affidamento su di voi e devono anche comunicarvi il disagio. Poi proponete le vostre regole e approvatele insieme perché è giusto comunque che si stabiliscano delle regole fra voi e vostri figli rispetto a quello che sia l'utilizzo del web. Ovviamente non si parla di imporre degli obblighi perché l'impostazione di obblighi può generare ovviamente rabbia, può generare incomprensione, però è giusto che siano condivite, condivise da loro rispettate. Poi una cosa importantissima veramente, ricordatevi ogni giorno che tutto ciò che condividono, anche un semplice post, è per sempre e quindi è una piattaforma pubblica, tutto ciò che inseriscono foto, commenti, adesione ai gruppi resta veramente per sempre in memoria, anche quando si decide di cancellare quell'elemento o cancellarsi nel sito direttamente. Poi raccomandate l'utilizzo di software che filtrano i siti di navigazione inadatti, infatti è impossibile bloccare tutti i contenuti a rischio, quindi l'utilizzo di filtri, accorgimento software, l'antivirus che è molto importante. Poi se ha dei modelli di coerenza, i comportamenti si sa, i fatti valgono più delle parole spesso, quindi è giusto non veicolare messaggi sbagliati, chiedere a loro di non postare immagini, di non postare video che ritraggono i vostri ambienti familiari, anche perché è anche importante sotto forma di privacy. Ovviamente non fatelo nemmeno voi. Le informazioni personali, nome, indirizzo, questo ne avevo pure un attimo parlato prima, questi non si conosce personalmente, non si sa a chi li si può dare, quindi è fondamentale non date queste informazioni personali, come non inviare immagini intime, personali, parlatene con i vostri figli, perché spesso accade condividere le password nemmeno con gli amici, in questo caso i password si possono comunicare ai genitori o a qualche adulto di riferimento, o anche gli incontri che possono venire, incontri fuori, incontri di accettare persone conosciute online, assolutamente, state attenti, non rispondere nemmeno ai messaggi che possono destare confusione o disagio. Gli allegati, questi sono consigli veramente per tutti, perché spesso capita di ricevere un'email, aprire l'allegato è lì, chiedono anche informazioni personali rispetto anche al numero della carta di debito, quindi veramente state molto attenti. E poi anche il social network, le impostazioni del proprio profilo, ovvero chi può vedere su Facebook, spesso noi non ce ne rendiamo conto, ma basta digitare il nostro nome e basta essere iscritti su Facebook, tutti possono vedere, tutti possono fare ricerche su di noi, raccogliere informazione, quindi attenzione, mettiamo anche dei filtri che ci servono per tutelare i nostri figli, ma anche noi stessi. E poi in conclusione bisogna dire una cosa, e io mi rivolgo veramente, vi invito a tutti i genitori a stare a passo con i tempi, a stare a passo con i tempi, a svolgere appunto un compito proprio pedagogico ed educativo, nel stare a passo con i tempi per i social, ad esempio. Molti social non vengono conosciuti, ma vi assicuro che questi figli li conoscono. Quindi siate curiosi, state con i vostri figli, perché soltanto così possiamo sia accorgercene, ma sia anche prevenire questi atti. Adesso vi ringrazio per l'attenzione, vedo di poter interrompere la condivisione. Posso dire una cosa Elisabetta, prima di passare la parola subito all'avvocato, che su questi temi della cyber security, che sono stati menzionati in relazione poi al fatto di prevenire la diffusione di informazioni personali, il Museo del Risparmio questa volta fa iniziative con le scuole di ogni ordine e grado, proprio sulla cyber security. Quindi se ci sono insegnanti, ma anche genitori che sono interessati, all'interno del sito del Museo del Risparmio abbiamo proprio tutta una collezione di incontri che facciamo con le scuole per insegnare come usare il web, appunto dal punto di vista di evitare poi di trovarsi nelle situazioni che ci raccontava Marta. Solo questo, chiudo. Eh sì, grazie Giovanna, perché più materiale diamo a chi ci ascolta e meglio è. Abbiamo bisogno di avere tanti fonti, tanti appoggi e tante informazioni. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche in qualche incontro precedente e sono sempre disponibili anche le registrazioni, no? Per chi non avesse assistito agli incontri precedenti, questo tema della cyber security era stato affrontato, quindi si può anche riprendere. Quindi ti ringrazio molto di questa informazione e ringrazio Marta e mi viene da sottolineare quanto sia importante in tutto quello che tu hai detto, eh avere gli occhi e le orecchie aperte all'ascolto e a ogni segnale, no? Che i nostri figli possono darci e e non lasciarli soli perché magari non li facciamo andare soli per strada, siamo preoccupatissimi che rientrino nell'orario giusto, chi li accompagna, chi li riporta, eccetera, eccetera e poi nella cameretta loro sono assolutamente soli di fronte al mondo intero quando entrano nella rete e mi viene da ricordare anche che quando parliamo di social ehm da da sopra i tredici anni bisognerebbe iniziare a utilizzarlo e io credo che ancora non siano neanche preparatissimi a quell'età, vanno comunque guidati i ragazzi eh ma prima non eh non dovrebbero accedervi o quando capita che gli si facciano accedere lo devono fare con noi perché non hanno eh ce lo dirà adesso meglio sicuramente lui saludevole non hanno il permesso dal punto di vista della legge anche eppure noi sappiamo di tanti bambini che navigano da soli che hanno TikTok eh ragazzini appunto che eh usano Instagram o o altri sistemi vanno su YouTube ci arrivano tantissime segnalazioni per esempio di video in adatti su YouTube ma YouTube è un mondo quindi se non impariamo a selezionare a utilizzare anche lì dei sistemi per esempio YouTube Kids che permette di caricare su quella piattaforma solo contenuti scelti e poi eh come dire che lasciamo nostro figlio in un quartiere in cui possono trovare chiunque e poi ci lamentiamo se incontrano qualche mal qualche persona mal malintenzionata eh è un mondo quindi non possiamo sperare che qualcun altro anche se cerchiamo di farlo no? Di di far sì che le istituzioni ci diano sempre leggi un po' più aggiornate che in qualche modo mh diano responsabilità a chi gestisce la rete ma in attesa che questo accada noi dobbiamo essere i primi e non demandare a nessun altro l'attenzione sui nostri figli. Oh a questo punto grazie ancora Marta e mh avete capito che l'esperienza nelle scuole arricchisce molto perché le storie che incontriamo sono veramente le più varie impressionanti, interessanti, emozionanti insomma quello che si può fare con i ragazzi è meraviglioso e adesso vorrei passare la parola all'avvocato Luisa Lodevole che è docente di Tor Vergata e mh e ha collaborato e ancora collabora con noi con grande generosità e mh e quindi sicuramente ecco su qualche cosa a cui Marta ha accennato Luisa ci saprà dire meglio e potrà scendere più in dettagli ecco implicazioni giuridiche la legge sul cyberbullismo quindi Luisa grazie a te ti lascio la parola. Allora buonasera a tutti mi fa piacere vedere rivedere degli amici e soprattutto appunto mi fa piacere che eh così grande interesse ci sia per questo argomento del cyberbullismo e mh e soprattutto per gli aspetti educativi formativi che sono quelli che interessano appunto ai genitori ai formatori e mh per quanto mi riguarda appunto la mia è solo una testimonianza amichevole di eh così di una persona che eh appunto in passato ha esercitato la professione di avvocato adesso non esercito quindi sono delle semplici notazioni le mie come dire per dare qualche eh spunto suggerimento ai genitori per una maggiore attenzione per quello che riguarda eh tutte le problematiche legate alla eh presenza del dei minori in questo eh spazio che è il cyber spazio che eh non differentemente diciamo dallo spazio reale presenta molti pericoli e quindi eh quello che appunto mh a livello educativo formativo è importante che i genitori abbiano presente gli educatori è che eh con riferimento in particolare lo dico al cyberbullismo che eh lo spazio virtuale è come appunto una eh una realtà nella quale eh nella quale i minori come dire non devono essere lasciati soli come eh appunto eh sarebbe eh lo spazio reale nel quale appunto eh non come dire devono essere sempre oggetto della eh vigilanza della custodia della sorveglianza di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale quindi è importantissimo che ehm eh appunto i genitori non deleghino eh non deleghino ehm a nessuno quello che è appunto eh la responsabilità genitoriale che compete loro che proprio incombe sia a livello normativo e sia a livello come dire morale ancora più importante per il contesto in cui siamo così di eh ecco ehm nel quale ci interessa appunto questo aspetto. Allora condivido qualche qualche schema anche perché può essere utile per per chi ascolta magari può essere ehm vediamo un attimino se eh state vedendo posso avere un rischio ancora un avvocato. Allora vediamo un attimino ehm ecco e quindi per quello che eh già è stato detto ovviamente eh poiché molto è stato detto non non ripeto insomma quello che ha detto la dottoressa Barraco è stato di grande interesse molto approfondito quindi io posso dare qualche spunto eh ricordare della mia esperienza eh per la quale ho potuto visitare una famiglia di amici ecco in Finlandia e ehm eh loro eh hanno avuto esperienza con i loro figli di questo grande interesse che nella eh regione scandinava ehm si è sviluppato a seguito di tragici eventi ehm eh capitati ai minori per appunto la prevenzione e il contrasto del eh di tutti gli episodi di bullismo e cyberbullismo quindi come abbiamo già sentito dalla dottoressa eh Barraco eh la condotta del bullismo e quella condotta eh diciamo che ha i caratteri della ripetizione dello squilibrio di potere tra un appunto una persona che eh ha una forza fisica, uno status sociale oppure eh una posizione appunto ehm sovraordinata rispetto alla vittima oppure per il carattere appunto di numerosità del gruppo rappresenta come una ehm una eh eh squilibrio nei confronti della eh diciamo della vittima e la caratteristica appunto del comportamento è quello della violenza quindi dal punto di vista giuridico diciamo che mh eh la condotta del bullismo in realtà può essere integrata da una molteplicità di eh condotte ehm eh che sono appunto dalle percosse al danneggiamento per esempio già il fatto di non so eh ricattare il 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 compagno di classe che può capitare in una scuola per avere non so dei soldi oppure per avere tutti i giorni la merenda per avere eh come dire qualche eh per costringerlo a fare qualcosa ecco ehm dal punto di vista giuridico in realtà mh c'è una grande eh varietà di condotte che possono costituire il bullismo eh dicevamo che appunto nella penisola scandinava ehm chi va coulo è il programma che è stato eh ehm diffuso in quasi tutte le scuole che significa scuola felice e che proprio mira a una ehm diffusa prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e quindi viene proprio introdotto una serie di eh interventi sia a livello di formazione degli insegnanti di formazione peer to peer dei ragazzi che imparano anche a ad aiutarsi appunto tra di loro e per quanto riguarda invece l'aspetto del cyberbullismo il maggiore studioso in Italia Tonino Cantelmi eh appunto ha eh verificato ha analizzato ha ricercato sui eh quindi gli aspetti anche della mh presenza dei minori online dei possibili danni che la personalità del minore subisce da una eh appunto eh dipendenza dalla eh dalla rete e da comportamenti quindi che eh eh non ehm diciamo sono eh sia ehm come dire ehm di eh violenza verbale attraverso la rete verso gli altri e anche che diventano appunto forme di eh persecuzione eccetera ehm che eh quindi costituiscono ehm una eh che provocano poi dei danni psicologici e al limite appunto abbiamo sentito anche danni a livello psichiatrico ai minori e quello che appunto eh può essere a livello di di note legali su quello che è che è stato detto eh quindi la legge in realtà prende in considerazione solamente il cyberbullismo ma eh ovviamente questo è un po' limitativo perché ehm la condotta del bullismo abbiamo detto ehm è ehm ecco lo vediamo può essere integrata da una molteplicità di eh comportamenti dalle percorsi alle lesioni personali ovviamente al limite eh diciamo nei casi più gravi eh omicidio preterio interzionale la diffamazione e eh la diffusione di immagini pornografiche eh di minori ecco ehm questi sono appunto condotte che ehm ehm reiterate nel tempo e eh quindi eh con non solo sono punibili ovviamente in quanto eh eh singole condotte ma nella ripetizione del tempo diventano eh diciamo persecutorie ma ehm ecco cosa ci interessa in questo contesto eh cosa ci interessa di tutto questo discorso a livello legale perché io potrei fare un'esposizione appunto della giurisprudenza sulla eh sui casi appunto su ehm sulla eh recente eh legge del cyberbullismo ma che cosa ci interessa appunto quali sono gli aspetti eh la legge appunto qualifica cyberbullismo alcuni tipi di condotte che abbiamo sentito sono la pressione, l'aggressione, la molestia, il ricatto, l'ingiuria, la denigrazione, la diffamazione, il furto di identità, l'alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo punto intenzionale predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Ecco eh tutto questo eh può essere quindi oggetto di una ehm segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza e nella prospettiva della legge eh settantuno può essere può provocare quella che è la sanzione e che sta funzionando appunto a detta anche di eh agenti della polizia di stato dell'ammonimento. L'ammonimento è questo richiamo verbale da parte del questore diciamo eh al minore che viene proprio a seguito della segnalazione all'autorità eh di pubblica sicurezza viene chiamato quindi insieme a un esercente la responsabilità genitoriale per perché appunto sia eh riceva questo richiamo verbale a non commettere più quella condotta e a eh quindi comportarsi in modo rispettoso dei suoi coetanei perché il punto è che appunto il bullismo il cyberbullismo eh laddove appunto non sia sporta querela quindi laddove non costituisca reato ma eh sia una offesa o una forma di eh comunque di molestia che però non eh integri una fattispecie di reato quindi non dia ehm modo alla ehm diciamo alla persona offesa di ehm quindi ehm effettuare un altro tipo di segnalazione ehm ecco ehm dal luogo può dare luogo a questa eh segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza quindi eh senza far appunto incorrere eh il minore in altro tipo di sanzioni quindi parliamo del minore ovviamente ehm eh che eh diciamo in questo caso ehm eh viene quindi eh considerato eh in qualche modo autore di questa condotta e che subisce l'ammonimento. Il punto importante per i genitori e per gli educatori è la responsabilità quindi la responsabilità dell'educatore e la responsabilità del genitore perché ehm ecco eh vediamo un attimino l'adescamento di minorenni forse possiamo eh trattarne alla un attimino ma vedo che il tempo corre quindi la responsabilità dei genitori ehm ricorre poiché ehm appunto eh il genitore per la legge è eh quindi eh sul mh è destinatario di un obbligo di educazione di vigilanza sul minore quindi ehm il genitore stesso laddove ehm eh il minore danneggi quindi un suo coetaneo e oppure appunto ovviamente provochi un eh danno risarcibile eh ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile può eh quindi deve eh è è civilmente responsabile del danno commesso dal figlio. In alcuni casi la giurisprudenza diciamo non richiede neanche eh come dire nei casi più gravi di condotte eh commesse dai minori ehm non richiede neanche addirittura la prova del del genitore che è l'unica prova che diciamo lo esonera dalla responsabilità che è quella di aver eh diciamo compiuto tutto quello che poteva per evitare il danno perché diciamo in alcuni casi il comportamento dei figli è come indice di una eh carenza educativa dei genitori e questa carenza educativa è proprio ciò che ehm la rende il genitore responsabile perché la responsabilità appunto del genitore non è solo a impedire danni ma è proprio quella di educare il minore quindi ciò che è importante è che eh ehm comprendere diciamo al di là dei casi giurisprudenziali che sono numerosi nei quali i genitori sono stati ritenuti responsabili per i danni provocati dai figli a loro coetanei nel contesto scolastico laddove appunto eh o fuori dal contesto scolastico soprattutto laddove appunto questo comportamento del minore manifesti una eh diciamo ehm una carenza educativa e quindi hm diciamo quello che mi preme così con qualche nota molto così molto qualche pennellata quello che mi preme trasmettere ai genitori è che eh il lo spazio il lo cyberspazio è appunto un luogo nel quale il minore è esposto a rischi e allo stesso modo in cui eh il minore può essere esposto a degli no atti osceni in pubblico che sono sanzionati penalmente così anche eh eh come dire eh questi atti osceni questi questa violenza delle immagini può colpire il minore nel cyberspazio e questo lo rende in in qualche modo eh oggetto di una violenza perché e questo è quello che eh sarebbe più importante impedire cioè che i propri figli siano questi eh destinatari di una violenza eh che viene trasmessa da immagini sul web eh immagini appunto pornografiche immagini di violenza immagini diseducative e che il genitore eh può appunto evitare ehm essendo al fianco del minore essendo diciamo ehm impedendo questa eh questa esposizione a a a rischi che eh che evidentemente eh dipendono dal fatto che ehm altre persone cercano cercano proprio minori per eh per delle volontà eh criminali quindi eh non si può eh pensare che il web sia un luogo esente da rischi che sia come un gioco ma segue una logica di mercato in questo senso i minori sono eh diciamo purtroppo ehm eh in un mercato in un mercato sono assolutamente carenti di difese e quindi l'unico ehm così in qualche breve pennellata che posso dare l'unico ehm ecco le le strategie la raccomandazione è che i genitori non deleghino quella eh responsabilità educativa e di sorveglianza sui minori che è loro proprie quindi non eh con strumenti di parental control poiché appunto i mezzi eh i social media non diciamo non lo garantiscono di default siano loro stessi a eh sorvegliare sui loro eh sui minori su coloro eh sui quali esercitano la responsabilità genitoriale e non so io termino qui e ho dato solo qualche pennellata non ho preteso in nessun modo di esaurire l'argomento ovviamente mi fa piacere in via amichevole per l'amicizia che c'è ecco con tutti i i i membri del moige mi fa piacere così partecipare dare una testimonianza più che altro della esperienza è vissuta insieme ehm vi ringrazio grazie grazie mille Luisa intanto che tu parlavi sono arrivate delle interessanti domande quindi adesso vediamo sia per la psicologa che per la giurista così vediamo di di cercare di dare qualche informazione innanzitutto intanto chi chiede chi chiedeva se era possibile avere una copia delle slide ricordo che comunque queste questo questi webinar sono tutti registrati e saranno disponibili sia sul sito del museo del risparmio che sul sito del moige quindi potrete andarle a ripescare quindi ritrovare anche tutto il materiale e poi ecco eh vedevo leggevo che qualcuno diceva attenzione che youtube kids ha insomma avuto dei problemi effettivamente è vero io a questo proposito ehm approfitterei eh intanto che vado avanti con la domanda metto sulla chat un un filmato youtube che ci ha mandato poco tempo fa uno youtuber eh che si chiama Davide Nonino che è il responsabile del sito GBR giochi per bambini e ragazzi è un papà ed è molto attento e spiega in questo video come selezionare il materiale da mettere su youtube kids lo trovo molto interessante perché insomma credo che sia un grande aiuto per tanti genitori io poi che non sono così pratica seguendolo passo passo ho visto che si riesce a capire qualche cosa intanto che metto questo indirizzo eh leggo anche la domanda successiva come mai alcuni social TikTok Instagram Facebook non rispettano il decreto numero 101 del 10 agosto del 2018 articolo 2 consenso dei minori in relazione ai servizi della società eh dell'informazione ora magari Luisa a questo sai rispondere qualcosa tu e e poi insomma io aggiungo qualcos'altro dopo prego prego Luisa a te la parola e questo mi dispiace è un problema diciamo a monte che si sta cercando con il Moid effettivamente di affrontare il problema eh non è tanto che eh i social media i social network le piattaforme che sono poi dei fornitori di servizi della società dell'informazione in base al codice del commercio elettronico il problema eh è che eh non ci sono meccanismi di controllo per cui il minore che si registra su un social network può indicare una data fittizia effettivamente inventata e registrarsi come se fosse un maggiorenne perché il il sistema del social network se eh ravvisa una data di nascita che implica un'età inferiore purtroppo in Italia appunto ai quattordici anni eh da il blocco ma il minore che è furbo ovviamente intelligente eh immediatamente eh quindi ehm cambia la data quindi il punto è che eh dovrebbe essere imposto diciamo ma questo comporta delle battaglie ad un altro livello che quindi non stiamo facendo è vero. Stiamo facendo eh diciamo eh non è che non rispetta eh in Italia l'attuazione del limite eh di età per dare il consenso al trattamento dei dati personali perché in realtà poi il eh come sa come appunto la la persona che ha fatto la domanda fa riferimento al consenso al trattamento dei dati personali che non sarebbe di per sé la capacità di eh dare il consenso ad un contratto di servizi qual è il contratto di eh utilizzo di una piattaforma di social networking quindi in realtà eh purtroppo per un fenomeno di vasi comunicanti è avvenuto questa trasposizione di ehm come dire di di eh autorizzazioni cioè quello che la legge dice che il minore può dare il consenso al trattamento dei dati personali che già a mio parere personale non dovrebbe essere così perché il minore non può disporre dei suoi beni patrimoniali e i suoi dati personali sono beni patrimoniali nella società dell'informazione quindi eh se il minore non può disporre dei suoi beni eh non dovrebbe essere messo in condizioni di accedere quindi ad una eh piattaforma senza una verifica effettiva della eh dell'utente di colui che sta utilizzando quel servizio poiché l'utente è eh giuridicamente colui che mh diciamo eh compie un'attività si dice negoziale e allora l'attività eh l'attività negoziale la può compiere uno un soggetto nel diritto che ha la capacità di agire e il minore non ce l'ha quindi è tutto un problema eh come dire a monte di effettiva verifica dell'età quindi il sito dovrebbe porre dei blocchi effettivi che previa verifica di un effettivo codice fiscale di un come viene in altri casi ehm così messo in atto dovrebbe effettivamente il sito bloccare l'utilizzo se non ci sia l'effettiva eh verifica del del soggetto che utilizza quindi purtroppo formalmente i social network effettuano la verifica infatti questa è una cosa che noi avevamo contestato fin dall'inizio intanto appunto che abbiano messo l'età a quattordici anni che ci sembrava eh anche troppo bassa e poi appunto quello che diceva l'avvocato eh se fino ai diciott'anni uno in teoria non potrebbe eh dare il consenso eh legalmente perché invece su internet si può fare terza cosa eh perché non ci sono dei sistemi nel momento in cui si dice che l'età per l'accesso è quattordici anni perché non ci sono dei sistemi che verificano realmente l'età di chi si collega a questi social network su questo ci stiamo lavorando stiamo chiedendo che si faccia qualche cosa perché altrimenti possiamo mettere che l'età sia quattordici a sedici a diciotto a dodici ma se poi un bambino di otto anni si può iscrivere dicendo che ne ha quattordici sedici o diciotto dodici e nessuno lo verifica è assolutamente tutto inutile quindi effettivamente è un un buco che c'è e che speriamo facendo le giuste pressioni e stando dietro insomma alle istituzioni che prima o poi in qualche modo si si dia una risposta e si aiutino i genitori anche un po' e poi abbiamo dunque buonasera a tutti faccio parte del dei genitori del consiglio di istituto della scuola dei miei figli come possono i genitori aiutare la propria scuola con gli episodi di bullismo e se il genitore del bullo non prende provvedimenti nei confronti del figlio come può intervenire la scuola allora io so che come ha accennato l'avvocato se si tratta di un cyber bullo c'è una legge no che quindi dice che se ci si rivolge le autorità e ci sarà una sanzione in base all'età che generalmente di tipo no servizi sociali socialmente utile e cose del genere però c'è se maggiorenne un qualche cosa se minorenne un qualcos'altro poi l'avvocato ci dirà meglio effettivamente se non si tratta di cyber cyber bullismo come diceva l'avvocato il bullo semplice il bullismo semplice non rientra nella legge come si può agire quindi direi sia l'avvocato che alla psicologa allora cedo la parola prima la psicologa scusate ho dovuto un attimino non so se mi avete interpellato per qualcos'altro no no questa la domanda adesso spero credo che l'abbia l'abbia sentita sì 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 ho sentito senz'altro e allora è la scuola la scuola dovrebbe dotarsi di un regolamento e la scuola deve inserire nel regolamento di istituto quindi su questo chiedendo il parere agli avvocati che se ne occupano io me ne sono occupata per un tempo di consigliare le scuole di inserire nel regolamento di istituto quindi come comportamento oggetto di responsabilità disciplinare quindi tra l'altro ci sono state anche delle sentenze del tar che hanno come dire confermato che il 7 in condotta per comportamenti anche di cyber bullismo quindi commessi da un minore contro un compagno di classe anche quindi al al di fuori dell'orario scolastico ma anche bullismo quindi cyber bullismo e bullismo sì quello diciamo in particolare prendeva in considerazione ve la posso anche fornire questa sentenza interessante perché cioè il 7 in condotta è giustificato dal fatto che il minore abbia avuto comportamenti quindi offensivi su social contro un altro compagno di classe ma al di fuori dell'orario scolastico questo per dire che viene valuta è giustificato quindi il comportamento sanzionatorio diciamo a livello disciplinare perché qui parliamo di sanzione disciplinare il 7 in condotta in qualche modo che era stato contestato quindi dai dai genitori e invece è giustificato perché quindi quel comportamento esprime un disvalore nei confronti della comunità scolastica quindi il regolamento di istituto può contenere questo quindi una lista di comportamenti che a livello disciplinare sono sanzionati in particolare può essere previsto anche proprio un regolamento anti bullismo che faccia un elenco di comportamenti ascrivibili alla fattispecie bullismo cyberbullismo che quindi ripercorre tutte tutto l'elenco diciamo delle delle condotte non so dalle percosse cioè dal pugno lo schiaffo dalla lesione dal danneggiamento dello zaino e danneggiamento dei libri quindi di beni e e quindi materiali quindi l'istituto si può dotare di un regolamento anti bullismo ad hoc prevedere delle sanzioni quindi implementare diciamo la prevenzione il contrasto quindi adottare anche una sorveglianza maggiore soprattutto nei tempi l'ingresso l'uscita e la ricreazione nei quali sono maggiormente frequenti questi comportamenti quindi parliamo di quindi quei tempi normalmente che sono un po possono essere invece un po scoperti dalla sorveglianza invece devono essere quelli che sono che prevedono una sorveglianza organizzata dell'istituto questo dipende un po dall'organizzazione interna dell'istituto quindi regolamento interno formazione degli insegnanti modello di diciamo organizzativo nel senso di sorveglianza nei tempi più pericolosi anche gli spogliatoi i cambi se c'è uno spogliatoio per l'educazione fisica quindi tutto questo richiede un'organizzazione della scuola quindi dipende un po dalle risorse però dipende anche dalla volontà di creare una sorveglianza maggiore una vigilanza maggiore questa è la perché anche la scuola può incorrere in una responsabilità vigilando e quindi questo diciamo l'ho un po detto tra le righe ma in realtà la scuola può incorrere nella responsabilità in vigilando perché per l'articolo 2048 del codice civile anche gli insegnanti e la scuola quindi hanno un dovere di sorveglianza sui minori che sono affidati nel tempo e nel luogo ovviamente della in cui sono soggetti alla loro vigilanza per cui è importante che i formatori siano anche molto attenti a quei segnali che magari non sono così espliciti possono essere indiretti impliciti il minore inizia ad avere dei comportamenti appunto asociali si isola oppure aggressivi diciamo questo richiede una sensibilità che va un po al di là del del mero dovere obbligo e che è quella nota in più quel che una formazione un po più ampia a livello di attenzione all'uomo alla persona la dignità proprio del minore in senso ampio può dare ovvio ecco quindi insomma visto che parla era un rappresentante del consiglio d'istituto mi sembra molto utile il consiglio di pensare al regolamento in modo da avere una sorta di tabella di come comportarsi nel caso in cui e appunto anche per la responsabilità che la scuola se questi fatti avvengono a scuola e io ecco adesso do la parola a te Marta ma aggiungo anche la domanda successiva e che dice quanto peso possono avere in concreto i testimoni passivi degli episodi di bullismo penso ad esempio a una classe di ragazzi alla maggioranza silenziosa che assiste ma non fa nulla a quanto solo solo possa sola sola possa sentirsi uno una ragazza o ragazza non è non hai la il volume innanzitutto grazie per le domande mi fa piacere ricevere delle domande perché vuol dire che comunque c'è stato dell'interesse da parte vostra e della curiosità quindi grazie per essere stati così partecipi e presenti nonostante siano le 19 e 15 e capisco che magari siete un po tutti stanchi dalla giornata allora io devo dire la verità eh facendo il progetto colmo in già io sono andata nelle scuole la mattina e il pomeriggio per chi ovviamente aderiva facevamo formazione anche con gli insegnanti e con i genitori devo dire la verità secondo me la più alta forma di aiuto che si possa dare in questa situazione se voi genitori volete aiutare la scuola e questi figli secondo me una delle forme più alte è la formazione la formazione vuol dire conoscere i fenomeni sapere di cosa si sta parlando sia rispetto al bullismo che sia rispetto al cyberbullismo quindi io adesso anche nella chat se Elisabetta va bene metterò anche i dati e i numeri del moige per far sì che nella vostra città eh nella vostra scuola di sì o quel che è perché comunque noi facciamo parte comunque interveniamo e formiamo dalla prima elementare quindi dalla primaria fino ai licei quindi il range d'età è molto diverso diversificato adesso metterò i numeri appunto così se qualcuno ci vuole contattare e fare formazione all'interno delle scuole ben venga ben venga perché bisogna conoscere questi fenomeni per possibilmente sia fermarli ma sia anche interpretarli con i giusti modi certo sì sì anche se ci devono presentare qualche caso più particolare no posso attraverso i nostri riferimenti ne possono parlare esatto e rispetto ai testimoni passivi come dicevo prima ehm hanno un ruolo molto importante nel senso che comunque fanno parte del bullismo fanno parte di quella scena i testimoni passivi tra l'altro mi piaceva anche sottolineare che non fanno soltanto parte degli episodi di bullismo ma quando ad esempio si prende di mira un ragazzo nella scuola e si comincia a commentare eh tramite post tramite like tutto ciò che un ragazzo può pubblicare tutti i compagni che vanno lì a commentare altri post anche questo è cyberbullismo e anche questo fa parte dei testimoni passivi che guardano il posto e non fanno niente e non lo vanno a segnalare ad altri amici non lo vanno a segnalare gli insegnanti non lo vanno a segnalare anche i genitori stessi quindi sì i testimoni passivi sono molto importanti hanno un grande peso perché come loro vedono la scena anche la vittima vede che loro non fanno niente e si sente sola e tutto ciò può far scaturire a un sentimento non solo d'ansia ma proprio di profonda tristezza nell'essere soli in una situazione di grande disagio quindi un ruolo molto importante grazie sì mi sembra che sono venute fuori due cose interessanti la responsabilità appunto dei testimoni passivi che quindi non sono non è zero ma è grandissima ecco non voglio dire quanto il bullo ma ma siamo lì vicino come la responsabilità anche eh di cui parlava prima l'avvocato la responsabilità delle proprie azioni che non è solo nella vita reale ma è anche nella vita virtuale che è altrettanto reale quindi se un reato è reato nella vita reale lo è anche nella virtuale quindi perché spesso i ragazzi pensano che sia una sorta di zona franca dove nulla accade invece anche lì possono essere soggetti di reato quindi responsabili e con tutte le conseguenze del caso questa è una cosa che spesso lì li spaventano quasi un po' aprono gli occhi e dicono ma come allora non è siamo perseguibili anche lì ecco e poi chiedono dunque alla dottoressa barrago come ha spiegato ai ragazzi quello che determinate azioni non possono definirsi scherzi o giochi credo che voglia qualche notizia in più su questo io capisco allora eh come dicevo prima il fatto di stare con i ragazzi formare i ragazzi voleva dire comunque fare anche delle diverse formazioni rispetto all'età quindi molto spesso nelle primarie oltre a canzoni altre anche a video eh presentavamo delle slide in cui si cominciava appunto a parlare di concetti molto molto diversi fra di loro ma che potevano confondere ad esempio lo scherzo e il fenomeno di bullismo che a volte viene confuso dai ragazzi più giovani ovviamente parlo di ragazzini di bambini e facevo presentavo a loro una una slide anche una lavagna bianca in cui mettevo tre nomi e tre venti eh lo scherzo il litigio e il bullismo da lì facevo un po' di brainstorming quindi mi facevo dire da loro anche quello che pensavano rispetto a queste tre parole e poi insieme definivamo i concetti nello scherzo ovviamente ci sono due partecipanti o più partecipanti che stanno vivendo un evento giocoso un evento divertente che ha un inizio e che ha una fine in cui tutti i partecipanti sanno quello che sta capitando in ugual misura e in maniera simmetrico quindi non vi è una una simmetria di potere non vi è quello più forte e quello più debole ma entrambi stanno in uno scherzo stanno giocando si stanno divertendo e la il potere la simmetria è uguale nel litigio è una situazione che può capitare ma che capita rare volte e dove vi è comunque anche questo conflitto viene anche risolto nel breve tempo possibile e poi c'è l'atto di bullismo l'atto di bullismo che è un atto un vero e proprio atto aggressivo che viene ripetuto nel tempo in cui non vi è una partecipazione di potere ben distribuita vi è il bullo con il grande potere la vittima che viene soffocata dal bullo ovviamente le parole erano similari erano un po più spicciole perché si stava parlando con dei bambini più piccoli però capivo che fin da piccoli è giusto dare una definizione una bella differenziazione tra scherzo e bullismo perché già ai primi anni parlo anche in un contesto di di asilo comunque di scuola materna si possono attuare questi fenomeni quindi è giusto formare i bambini già da piccoli e dare loro dei concetti aiutare aiutare tipo a me piaceva un sacco parlare con i ragazzi e farmi aiutare a delineare dei concetti a definirli con le loro parole grazie sì sì infatti e tra l'altro credo che in questo entri molto anche l'educazione all'empatia no perché è chiaro che è più facile distinguere quando non stai più scherzando ma sei andato oltre se ti accorgi che la persona a cui diretto il cosiddetto scherzo in realtà sta soffrendo e quindi sta diventando una vittima quindi anche il lavoro sull'empatia credo che sia molto importante no è essenziale purtroppo tramite la rete non c'è però nella scuola e con i propri figli questo lavoro si può fare ecco poi si vedevo che scrive hanno scritto anche il discorso che certo è vero in alcuni paesi è richiesta l'età 16 anni no per potersi iscrivere da noi a 14 e sì c'è un po anche in questo senso siccome ogni paese ha la sua libertà e cioè ci sono condizioni diverse noi nel nostro nella nostra audizione al presso l'autorità garante dell'infanzia avevamo detto che a nostro avviso l'età era più adatto 16 che non 14 come richiedeva il resto dell'europa però poi ripetiamo che quello è un problema alla fine limitato perché fino a che le piattaforme non sono non pretendono in qualche modo non fanno in modo che si debba eh realmente conoscere l'età di chi si collega e non sia un'autodichiarazione è è una differenza ben poco significativa 13 o 14 o 16 cioè l'importante è capire veramente l'età di chi si collega che sia quella reale e non sia non quella dichiarata credo che l'avvocato in questo sia d'accordo con me eh sì 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 è quello che è tutta e poi chiediamo sì sì grazie è quello sì che dicevamo che purtroppo mentre ehm mentre il l'utilizzo di una piattaforma che sia un social networking un che sia qualsiasi altro eh piattaforma di internet è comunque un contratto di servizi e che non si riesce a comprendere che eh comunque internet è un mercato segue una logica di mercato quindi è un luogo di commercio per cui il minore che ehm compie diciamo degli atti su di utilizzo di servizi in realtà eh diciamo sta eh alla figura dell'utente e come il minore non può essere utente di un contratto di di servizi di fornitura di gas o di elettricità non dovrebbe in nessun modo essere utente questo eh l'abbiamo è un po' la nostra battaglia eh utente di servizi su internet ma purtroppo eh è difficile eh diffondere un po' questa idea questa concezione di internet come un mercato mercato nel senso come il mercato azionario come il mercato della borsa non è differente non ci sono servizi gratuiti su internet perché le grosse società fatturano diciamo le più grosse l'ottanta per cento della pubblicità mondiale vuol dire che eh c'è un evidentemente un interesse economico e quindi eh difendiamo i nostri eh ragazzi i nostri figli quindi il messaggio io proprio eh magari chiedo scusa se ho dato giusto qualche nozione così eh un po' a livello di pennellate ma ehm così il messaggio è proprio questo eh difendiamo i nostri figli eh non eh deleghiamo la la sorveglianza la vigilanza e eh difendiamoli da purtroppo possibili rischi pericoli che ci sono nel ciberspazio ai quali loro sono non hanno sono indifesi quindi il messaggio è di protezione dei minori che è un obbligo civile e eh e ancor di più eh una un obbligo educativo morale quindi questo è molto eh quindi eh al di là eh superiore e quindi io vi ringrazio sono molto contenta di ehm di incontrarvi come amici e per l'amicizia che c'è col Moige eh mi fa molto piacere eh rimango a disposizione. Grazie, grazie mille, grazie mille Luisa, grazie mille Marta per questi vostri interventi che ci hanno dato tantissimi spunti, speriamo di aver dato buone risposte a chi ci sta seguendo e a questo punto di grazie Giovanna. Facciamo tutti un appuntamento nuovo, no? Adesso facciamo una pausa per l'estate ma torneremo probabilmente. Una promessa facciamo, no? Facciamo una promessa. Noi come museo del risparmio abbiamo dei progetti proprio sulla famiglia perché la famiglia è comunque l'elemento cardine e per i ragazzi è il punto di riferimento che che si dica tutte le nostre indagini ci dicono che poi il punto di riferimento, il role model sono i genitori, nel bene e nel male. Il mondo del bene, cerchiamo di metterci a diventare role model nel bene quindi grazie mille a tutti, grazie a te Elisabetta, alla presidente affinita, alle due speaker e quindi all'avvocato lodevole, anche a Marta che è stata così chiara e così insomma anche dettagliata nel dare tutte queste indicazioni. Li do la parola a te per l'ultima per l'ultimo saluto. Giovanna guarda io ti volevo ringraziare perché effettivamente questa è stata una bella esperienza, credo anche per chi ci ha seguito perché abbiamo avuto sempre tante tante persone che ci hanno seguito e quindi sì mi piace questa promessa aperta a ricominciare ben presto e devo dire grazie al museo del risparmio per questo percorso insieme